Saremo presenti qua alla Biblioteca Oliveriana il 2 di dicembre per celebrare la chiusura di un progetto che ci ha impiegato per ben due anni scolastici dedicato a Italo Calvino. E' preso a pretesto di Italo Calvino il libro delle città invisibili alle quali abbiamo lavorato, elaborato nei due versanti sia quello letterario che quello di immagine però parallelamente. I ragazzi hanno a volte con le varie tappe dato forma a quella che è la loro città invisibili e quindi il nome è diventato le città visibili, in città visibili, che sono le loro città. I ragazzi hanno formulato delle immagini 30x30 diversificate con tecniche, elaborazioni e quanto altro e potranno essere visibili qua, esposti, gli originali esposti nelle teche. Sicuramente le città invisibili che sono iniziate nello scorso anno scolastico, nel febbraio 2023, trovano oggi un giusto proseguo, un approfondimento che da parte dei ragazzi è davvero nobile. Ringrazio il liceo artistico, le docenti che conducono gli studenti in questo viaggio nella conoscenza e anche all'interno di un percorso molto più ampio che è una riflessione sulle città. In questo connubio di forze un ringraziamento va anche alla biblioteca e musei oliveriani che sono sempre sensibili nell'accompagnare i ragazzi in questi percorsi di crescita e di conoscenza. Il progetto che è iniziato lo scorso anno è dedicato alle città invisibili di Italo Calvino, proprio nel centenario peraltro di Italo Calvino. Verranno presentati ed esposti gli elaborati sia grafici che testuali degli studenti e verrà anche raccontato il progetto, verranno descritte anche le diverse fasi e magari anche gli studenti e i ragazzi avranno qualcosa da raccontare. Noi ce lo auguriamo e quindi l'appuntamento è per sabato mattina 2 dicembre alle 10 e mezza qui nella sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana.